Le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 14 novembre di Globus Television. Giovedì, alta pressione sulla regione. Giornata contraddistinta da condizioni di bel tempo, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su gran parte del territorio. I venti da nord potrebbero far piovere un po' in provincia di Messina. Temperature massime fino a 23 gradi. Grazie a tutti.